Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale e tv siti. In apertura come al solito l'emergenza sanitaria, Torre del Greco, Piange, Pasquale, Castellano, stimato dipendente comunale, abbiamo ascoltato il ricordo dei colleghi. Parte invece la campagna vaccinale ad Ercolano con l'apertura del centro in via Aldomoro. Passiamo ora alla cronaca con la Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 500.000 euro a una coppia di coniugi dedita all'usura da Roma a Ercolano. E torniamo ora a Torre del Greco con l'intervista a Claudia Sacco, dirigente N.U., che ha fatto il punto sulla questione rifiuti. In conclusione lo sport con la Turis che ottiene un pareggio agrodolce con il Catanzaro. Troppe le occasioni mancate. Questo ed altro nei nostri servizi. Il Covid porta via anche Pasquale Castellano, stimato dipendente comunale del Comune di Torre del Greco. Siamo qui agli uffici ai Molini Marzoli per ricordarlo insieme ai colleghi di una vita. Ricordare Pasquale Castellano è come riavvolgere un po' il nastro della mia vita. Nel senso che io da ragazzino veni per un problema d'ufficio e Pasquale già all'epoca era un valido impiegato. E da allora c'è stata sempre una stima tra di noi, anche perché poi è continuata con gli anni in ufficio. Entrambi eravamo dello Stato civile e Pasquale per me è stato un punto di riferimento agli inizi. Lui mi rispettava e io rispettavo lui perché sapevo che era una persona preparata, una persona che si metteva a disposizione degli altri, io penso sfido chiunque, attore del greco, che non abbia ricevuto qualche cosa da Pasquale Castellano. È una persona sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri, a risolvere i problemi, perché ricordatevi che il problema è questo, l'impiegato si differisce da un altro perché mentre uno crea il problema un altro lo risolve. Pasquale risolveva i problemi. Pasquale era una persona semplice, umile, sempre disponibile con gli altri. Era una persona unica. Mi emoziono perché abbiamo lavorato 30 anni. Io sono arrivato allo Stato civile nel 90 e fino a due anni fa abbiamo lavorato gomito a gomito. Peppe è un figlio di Pasquale, nel senso che Pasquale lo ha aiutato tanto e lui ora è un degno erede di Pasquale. Tutto quello che faccio, che ho imparato, lo devo ringraziare a lui. Ancora oggi sembra assurdo, impossibile, perché Pasquale Castellano che non c'è più è diventato una specie di dolore sottile. Pasquale Castellano prima ancora di essere impiegato adoperava la tecnica e il riassunto del cittadino per capire qual era effettivamente la problematica da affrontare. Era una persona molto semplice, di un'umiltà eccezionale e contemporaneamente forse faceva proprio questo avvicinare di più. Alla base di tutto c'era la sensibilità di creare uno Stato di conoscenza, ma non come fatto a livello così semplicistico. Conoscenza per approfondire a che cosa significava, a che cosa serviva quel tipo di certificazione e quant'altro. Questo ovviamente lo applica quasi sempre l'impiegato che ama il suo lavoro, non certamente perché lo deve fare, perché è forzato da un qualcuno. La Pasquale Castellano resta nei nostri cuori per sempre. Grazie. Parte la campagna vaccinale Ercolano. Da stamattina è operativo il centro vaccinale ospitato presso i locali del centro anziano in Vialdo Moro. La struttura, dotata di tutti i comfort e le attrezzature, sarà operativa tutti i giorni, grazie anche alla convenzione stipulata tra ASL e medici di base. Un ambiente sicuro e facilmente raggiungibile al centro della città. Circa 150 le dosi somministrate in questo primo giorno, ma il numero è destinato a salire nelle prossime settimane, man mano che la campagna vaccinale entrerà nel vivo. Ad Ercolano stiamo lavorando senza sosta per sconfiggere il coronavirus. E oggi abbiamo raggiunto un risultato importante per consentire agli ercolanesi di vaccinarsi ad Ercolano. Un risultato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti ci, grazie all'ASL, ai suoi dirigenti, che insieme all'assessore del comune di Ercolano, Maria Arca Cascone, hanno lavorato per rendere subito soffruibile quest'area. Grazie ai medici di base che hanno offerto la loro attività professionale per consentire di eseguire quanti più vaccini è possibile. Grazie ai volontari della protezione civile, della Croce Rossa, davvero grazie a tutti. Per raggiungere la luce e fuori al tunnel abbiamo bisogno dei vaccini. Ora che sul territorio del Corano è presente il centro vaccinale, voglio ricordare che tutte le persone fragili e gli anziani con più di 70 anni possono registrarsi sulla piattaforma e prenotare per la vaccinazione. Vaccinarsi è un dovere di tutti, per tutelare la propria salute e di chi è accanto a noi. Noi dobbiamo vaccinare tanto perché questa è l'unica soluzione che abbiamo per risolvere il problema Covid. Ringrazio intanto il sindaco che ci ha permesso di stare in questa sede che è luminosa, è bella e ha tutto. Ringrazio gli assessori che mi hanno collaborato, anzi io ho collaborato con loro affinché il tutto risultasse diciamo perfetto, quasi perfetto. I medici di base che stanno al nostro fianco, tutti i funzionari ASL e ringrazio il mio direttore generale che ci sollecita un minuto sì e un minuto no affinché noi facciamo sempre di più. Sono molto orgoglioso in qualità di coordinatore dei medici di medicina generale di Ercolano perché noi diamo un effettivo contributo a far sì che finisca una volta per tutto questo problema del Covid-19, almeno per quanto riguarda la città di Ercolano. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato tra Roma ed Ercolano immobili e disponibilità finanziarie del valore di oltre 500 mila euro nei confronti di due congi indiziati di usura. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli al termine di un'indagine delegata dalla Procura della Repubblica Partenopea scaturita da una verifica fiscale eseguita dai finanziari della compagnia di Portici. In particolare le fiamme gialle sono riuscite a ricostruire il meccanismo di usura grazie alla testimonianza di un imprenditore edile che durante il controllo ha denunciato di aver visto lievitare la pretesa restitutoria del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro con interessi fino al 400%. Accertata l'erogazione di prestiti per 115 mila euro a tassi usurari ai danni di due imprenditori in difficoltà economiche, uno di Latina e uno di Portici. Il giro di usura è stato ricostruito attraverso l'acquisizione degli assegni versati a garanzia da parte delle vittime, gli accertamenti bancari e l'esame degli atti di compraventita di due immobili, risultati falsi, i cui mutui venivano pagati dallo stesso usurato. Negli scorsi giorni era stato indetto proprio al Comune un consiglio comunale monotematico sulla questione rifiuti, un problema che quindi deve essere risolto seppur sulla buona strada ma con quali progetti, con quali iniziative? Sicuramente si sta andando avanti con tutto quello che è previsto nel piano approvato dall'amministrazione. Come avete visto da oggi riparte la riconsegna dei carrellati, si vanno a rivisitare le zone dove già sono stati consegnati ma dove questi carrellati stanno creando problemi in quanto messi sulla strada pubblica. Ogni condominio riceverà un kit adeguato alla grandezza dell'immobile, agli spazi che sono presenti all'interno della proprietà condominiale e i carrellati verranno adesso codificati con questa etichetta, con un QR code in maniera tale che nessuno potrà, a parte il condominio proprietario di quel cassonetto, conferire rifiuti. Quindi anche nel caso di spostamento del carrellato, noi possiamo capire immediatamente di chi è quel cassonetto. Abbiamo ancora questi cumuli sparsi sul territorio cittadino di cui parliamo sempre e quindi chiediamo a gran voce alla cittadinanza di collaborare e di conferire in maniera corretta proprio nelle immediate vicinanze del proprio edificio, così come dice l'ordinanza sindacale. La Turris coglie un importante pareggio interno contro il Catanzaro, una delle compagini più attrezzate del girone meridionale di Serie C e tiene a distanza le dirette inseguitrici nella corsa a salvezza. I corallini partono bene con un gran tiro di Giannone controllato dal portiere ospite, ma sono i calabresi a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Martinelli che coglie la traversa. Alla mezz'ora prima svolta del match, altra conclusione da lontano di Giannone, che Fazio intercetta in aria con un braccio, giallo per il difensore e il rigore per la Turris che lo stesso Giannone però calcia sul palo gettando la grande occasione per il vantaggio. Pochi minuti dopo ancora Fazio commette un ingenuo fallo al centrocampo sul longo che gli costa il secondo giallo lasciando la sua squadra in dieci. La Turris ne approfitta subito, l'imprendibile Giannone trova in piena area la corrente romano che a tu per tu con Di Gennaro non sbaglia portando i suoi sull'1-0. Ma i giallorossi reagiscono subito con Di Massimo che calcia al volo sul cross di Contessa e beffa a bagnare sul suo palo. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa la Turris ci prova ancora con Bojciuk da centro area, ma il Moldavo spara alto. Poi è da Dalte che prova il cross ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto per la deviazione. I giallorossi, data l'inferiorità numerica, chiudono ogni spazio e controllano le iniziative coralline senza grossi affanni. Al triplice fischio è un pareggio che permette alla Turris di restare a più 4 sulla zona play-out quando mancano 5 partiti al termine della stagione regolare. La squadra di Mister Caneo è attesa ora dall'incontro di sabato prossimo contro il Teramo. E con questo è veramente tutto, io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi.